Chi è Tommaso Mazzanti? Raccontami un po' chi sei. Chi è Tommaso Mazzanti? Tommaso Mazzanti è un ragazzo semplicissimo, penso chiunque, un ragazzo potrebbe essere quello della porta accanto, mettiamola così, che ha cercato di fare del suo lavoro, la vita tra virgolette, con quel piccolo focus che avevo ormai 15 anni fa, che era quanto sarebbe bello provare a far conoscere il mio lavoro a tante persone. Diciamo che oggi Pianino ci si è fatta e se penso a 15 anni fa è lui Tommaso, cioè il ragazzo che fa una schiacciata buona dietro a un banco, a tante persone, poi babbo, la mamma, ci vuole anche iniziare a lavorare all'epoca, però con quella cosa di dire ma perché magari non sarebbe bella per i turisti, non lo so, ti parlo, era a Firenze, di Siena o di Montegatini, cioè per me erano turisti anche quelli che venivano da fuori, perché da noi venivano proprio solo i fiorentini. E poi pian pianino ci siamo arrivati, siamo arrivati a oggi, l'anticovinario è quello che è, però ecco Tommaso è quel ragazzo che stamani all'otto era un bottega dietro il banco, proprio perché voglio farmi vedere dai ragazzi, voglio che i ragazzi imparino, voglio che capiscano che c'è una multinazionale dietro l'anticovinario ma c'è sempre Tommaso e ora mi sto focalizzando veramente tanto su quello, cioè farli vedere ai miei ragazzi che hanno, secondo me è una fortuna, un ragazzo della loro età accanto, di cui non ti dico imitare, ma potresti basare anche su qualsiasi problema. Certo, no, è una sorta di mentor, però poi a tutto quello che è il successo dell'anticovinario ci arriviamo, ma voglio andare per step, come è iniziato tutto? Parte tutto da una bottega in Via dei Neri a Firenze? Parte tutto dalla rosticceria, gastronomia dei miei genitori, Sì, te pensai che io ero piccino, andavo alle medie e portavo i miei amici a fare la pausa a pranzo con il quartino di pollo, le patatine fritte, ero un po' con gli amici, ah si va a mangiare da te, e te fa molto, io prendo l'alberghiere come studi, non avevo, sinceramente non ero molto portato nello studio, era proprio un periodo che non mi piaceva, anche se ero molto, almeno così mi dicevano, ero abbastanza focalizzato, ma non mi applicavano, dicevano, e poi a 16 anni smisi, 16 anni e mezzo, perché un po' perché non avevo voglia, ero già bocciato due volte, giustamente il babbo da retta, era lavorare, dall'altra poi nel frattempo il mio babbo e la mia mamma, il mio babbo gli viene diagnostiato un diabete bruttino, quindi uno più uno, e a quel punto decido proprio io di ritirarmi e andare a lavorare, e quindi io inizio proprio nella gastronomia dei miei genitori, sempre quella che è quella storica, e quindi io ho iniziato paradossalmente, come pensano tutti, a fare schiacciate, io iniziavo a vendere i polli, cioè io facevo gli spedini, i polli, tutto ciò che era una gastronomia, e te fai conto nel 2000, oddio gli anni passano troppi, 2008 circa fai conto, passo con l'antico vinaio, a quei tempi scusami si chiamava? Gastronomia Giuliano Centro, una cosa del genere, e quindi io comincio a fare queste schiacciate che mi babbo e lei e mamma, e pian pianino io mi innamoro di questa cosa, perché questa cosa di passare, scusami se ti interrompo, da rosticceria gastronomia a schiacciate, è stata un'idea tua dei tuoi genitori inizialmente? Di tutte e due, sì sì, è stata entrambi, nel 2008 facciamo il passaggio, nel 2013 io apri il mio primo antico vinaio insieme ai miei genitori, quindi è stata proprio una fase step dove io mi innamoro, mi disinnamoro, cioè proprio ero un ragazzino veramente giovane, quindi passavo i temi e non capivo nemmeno tanto l'importanza, l'opportunità eccetera, però mi ricordo che all'inizio del 2009, 2010, ma guarda paradossalmente non ti posso dire il giorno, ma la fase me la ricordo veramente bene, c'è stato un momento dove mi sono proprio detto, ma queste schiacciate, quanto è bello farle, perché c'era proprio, era la prima interazione reale con i clienti, cioè quindi di mio papà che mi lasciava pian pianino fare a poco a poco da solo e dall'altra pian pianino io prendevo confidenza col mestiere e quindi di conseguenza mi facevo i miei primi clienti, i clienti che venivano a trovare, Macetto, Macetto, e poi pian pianino poi arrivare al successivo 2013, lì si fece il secondo anticovinario insieme, ma da lì a quello step ne è passata di acqua, cioè proprio pian pianino è sempre stata una conquista, passetto passetto, l'entrata poi mia in società nel 2014, cioè è stato veramente una conquista. La gavetta vera. Sì, io lo dico sempre, la fortuna che ho avuto io, dell'essere anche quello che probabilmente sono ora, ma delle nozioni anche che ho avuto dei miei genitori, secondo me è stata quella la mia fortuna. La vera scuola. Sì, perché c'è molti diano, sai, ti ha lavorato con il babbo e la mamma, facile, madonna, io lo dico sempre, cioè io avuto con loro ma hanno veramente fatto morbido, che è una fortuna, cioè è veramente una fortuna, perché avere dei genitori che fanno veramente capire al figlio, guarda, devi entrare la mattina all'otto, cioè per rispetto ai tuoi colleghi, anche se lei era lo zio, però c'era lo zio che se entrava più tardi, e io a tutt'ora ai miei ragazzi, gli ho detto sempre, gli ho detto, bimbe, cioè se voi voi entrare 10 minuti più tardi, uno ne ha 10 minuti più tardi, succede a tutti, e non mi amare di nulla, però gli ho detto, devi sempre, c'è uno che arriva puntuale, gli tocca fare il tuo lavoro, e questo a me mi ha segnato tanto. Dal proposito, in un'altra intervista, mi sembra che hai raccontato di quando una volta, ti è capitato di arrivare un pochino in ritardo, e tu babbo, e da quella volta non l'hai più fatta. No, bravo, cioè io ho avuto proprio, ero proprio il classico dipendente, ma io lo dico sempre, perché mi ha fatto fare veramente la gavetta, cioè proprio la vera gavetta, poi, e guarda, ho sudato per conquistare mi babbo, guarda, io lo dico sempre, cioè per me aver conquistato lui, penso, non c'è altri locali che potrei aprire il mondo, che mi possano dare questa soddisfazione. Infatti, prima, mentre dicevi che a poco a poco tuo padre ti lasciava spazio, è perché aumentava anche la sua fiducia in te. Sì, cioè, sì, io ho avuto, cioè mio babbo per me, insieme a mia mamma, sono state veramente le due figure più grosse, e più forti nella mia vita, e mia mamma, come si dice, io sono un po' mammone, lei è il suo figliolo, quindi, sai, c'è un po' più di un piacimento, però per il babbo, nonostante mi ami da morire, sul lavoro è sempre stato molto ferreo, e quindi io me le sono dovute guadagnare sul campo, tutte le piccole soddisfazioni, e questo per me ha fatto sì che quando sono arrivato ad avere poi tutto io, per me è stata la più grossa vittoria, io lo dico sempre, cioè posso aprire mille locali, ma quella vittoria di dire, è la più importante di tutto, ho preso i miei genitori, li ho lasciati, tra virgolette, col benestare, probabilmente tutta la vita, ho preso l'antico binario di tutto io, quella è la mia vittoria più grossa. Bellissimo, adesso non ci siano altre città al mondo, dove tu puoi aprire un'antico binario, che ti possa dare. Non ci sono neanche soldi che tengono. No, no, no.